Ave di grazia piena, melodia di Francesco Sotto della Laglia, coro a quattro voci miste. È il saluto dell'Angelo a Maria, Laura spirituale filippina del 1500. La Laura filippina è il centro e l'espressione tipica della spiritualità di San Filippo Neri in musica. Testi di argomento importante, sacro o morale, venivano rivestiti da note semplici, spesso tratte dal repertorio popolare della Roma del Tempo, affinché le persone che frequentavano l'oratorio potessero dare il loro contributo musicale senza conoscere la musica. Esse contengono in sé, persino nel contenuto puramente musicale, i tratti tipici di gioia e carità dell'oratorio, inteso come vera comunità cristiana, destinata ad essere fermento di vita autenticamente evangelica e il loro pubblicano. Il Dio di grazia pieno di relazioni che si si non si non si non si non. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.